Grazie 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 un progetto di un progetto che stanno ad Alexander e questi sono due e poi ci fanno meno Andrea e Stefano Durant generano veramente delle magie a Roma se vuoi ascoltare le mie cose dove devono andare? per un sito e le serie di sito bene come vedete questa creatività artistica esce sempre fuori lascerei la conclusione al maestro Alexander Caneschi una genialità visionaria che entrerà prepotentemente in Expo 2015 in Expo in città grazie a tutti a queste geniali visioni di Alexander Caneschi a questa vera grandissima mostra cominciando qui all'Ungria il cuore italiano cultura e arte per Milano Expo 2015 Milano Importante evento di questo secolo non solo per l'Italia ma per tutto il mondo perché l'Italia è un'altra immaginatura del mondo arte e cultura e questa mostra continua con le ripresentazioni di Milano Importante Milano Interessanti degli artisti del nostro tempo sia in astratto e figurativo il trasformismo quei pensaggi tutti selezionati per l'unico e foremost paramontale critico del nostro tempo Gianmarco Puntelli e tutti da questo da questo luogo adesso si trasportano trasportando a Milano propria con Gianmarco Puntelli per ripresentare l'Italia attraverso contro il mondo contro il mondo e per il nostro mondo per il nostro tempo Gianmarco Puntelli più importante di questo secolo per l'Italia per la storia dell'arte per la storia dell'umanità anche stiamo molto attaccati personalmente questo grandissimo sensibile cigno persona un compositore Andrea Doretti c'è composto anche musica specialmente inspirata dalla mia pittura molto attaccata grazie mille e lui composta Gianmarco Puntelli attento musica per la sua mostra in totale bravi grazie a te Alessandra per la parte internazionale grazie a te Andrea per la sua prima musica che ci avvicina a una realtà spirituale ma soprattutto grazie a persone come questo nuovo in Italia che organizzando queste mostra ci permettono raggiungere ciò che è il nuovo da sempre grazie 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 a tutti.